Ristabilire le relazioni con l'Africa e cambiare la narrativa da donatore di aiuti a partner commerciale. Questa è la nuova strategia europea verso il continente africano, dove la creazione di posti di lavoro ha un ruolo cruciale. Come spiega la commissaria europea, dobbiamo investire nelle infrastrutture, nella digitalizzazione e nell'istruzione, che è fondamentale se vogliamo aumentare il tasso di disoccupazione. L'Unione Europea è il principale partner commerciale dell'Africa, ma la Cina sta diventando sempre di più un attore chiave nel continente. Dal 2018 gli investimenti europei in Africa hanno mobilizzato 4,6 miliardi di euro in progetti con investitori pubblici e privati. L'obiettivo è creare 10 milioni di posti di lavoro entro il 2023. Ma oltre agli investimenti, il gruppo socialista del Parlamento europeo vuole vedere l'uguaglianza come la caratteristica più importante del nuovo rapporto con le nazioni africane. Lo sa bene Aboukbar, bracciante originario della Costa d'Avorio e sindacalista in Italia. Per lui la priorità è evitare il cosiddetto dumping sociale. C'è il problema della forza lavoro a basso costo, che si tratti di lavoratori europei o lavoratori di altri continenti, si tratta sempre della possibilità di essere sfruttati. Questo è il motivo per cui penso che oggi dobbiamo trovare il modo di contrastare il dumping sociale, perché questo fenomeno provoca una sorta di conflitto tra i lavoratori. L'Europa dovrebbe lasciarsi alle spalle approcci opportunistici verso il continente africano e non abbandonare gli sforzi per promuovere la stabilità politica, afferma la leader dei deputati socialisti. Dobbiamo garantire un avanzamento negli scambi commerciali, ma allo stesso tempo dobbiamo garantire la protezione delle risorse naturali, la cooperazione in termini di cambiamento climatico e inoltre le nostre priorità in Europa devono essere le stesse nell'agenda con l'Africa, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e la democrazia. La pandemia ha deragliato la nuova strategia europea per l'Africa, è stato rinviato un vertice previsto per ottobre in cui i leader di entrambi i continenti avrebbero fortificato i loro impegni. Tuttavia Bruxelles ritiene che la crisi abbia rafforzato la necessità di mettere a riparo entrambe le economie da recessioni.